15 ettari di terreno, 31.780 moduli fotovoltaici, un cantiere di oltre 80 persone per circa 10 mesi di lavoro. È l'impianto fotovoltaico della società RAL SRL, realizzato al sud della città di Alessandria, uno dei più importanti impianti fotovoltaici a terra del nord Italia. Per la realizzazione e il conseguente esercizio dell'impianto fotovoltaico, è stata costituita nel 2009 la società RAL da CVA-SPA, Compagnia Baldostana delle Acque, socio di maggioranza con sede a Châtillon in Valle d'Aosta e da Renergetica SRL con sede a Genova, che ne ha curato gli aspetti autorizzativi e progettuali da un punto di vista ambientale, civile ed elettrico. La costruzione dell'impianto è stata affidata con appalto chiavi in mano alla ditta a saldo trasmissione e distribuzione. L'energetica è una società che è stata costituita da soci privati provenienti da diversi settori di attività nel 2008 per sviluppare e realizzare impianti fotovoltaici sia integrati sia a terra. Per il progetto di Alessandria, l'energetica ha sviluppato l'iniziativa, ha localizzato l'area, si è curata di tutti gli aspetti progettuali e ha condotto l'iter autorizzativo presso la provincia di Alessandria con la quale si sono stabiliti ottimi rapporti durante tutta la fase di valutazione degli aspetti ambientali e progettuali. Per quanto riguarda la collaborazione con Compagnia Baldostana delle Acque, speriamo che questo sia solo l'inizio di una futura collaborazione e stiamo già discutendo con i colleghi di Compagnia Baldostana la possibilità di estendere la collaborazione nel campo fotovoltaico ad altre iniziative che abbiamo in corso di sviluppo. Azionista di maggioranza di RAL è CWA, Compagnia Baldostana delle Acque. Una realtà produttiva in piena espansione che con le sue 30 centrali idroelettriche è una delle maggiori aziende italiane di produzione di energia pulita. Il gruppo CWA è tra i maggiori produttori italiani di energia da fonte idroelettrica e il suo obiettivo è quello di crescere ulteriormente nelle fonti rinnovabili, nell'eolico e nel fotovoltaico. I contatti e le proposte formulatici dal gruppo Re Energetica sono state valutate di estremo interesse per la società, sia per la serietà e la professionalità delle nostre controparti, sia per le dimensioni del campo che è tra i maggiori presenti in Italia. La localizzazione sembra alquanto strana, in quanto i maggiori investimenti in Italia sono concentrati nel sud. In realtà la provincia di Alessandria gode di un rirraggiamento particolarmente favorevole ed inoltre abbiamo trovato la piena e fattiva collaborazione delle amministrazioni locali che in tempi brevi hanno permesso la realizzazione di questo campo. Suddiviso in sette sezioni, caratterizzato da una potenza di 7,3 MW di picco e una produzione annua complessiva stimata intorno agli 8 GWh, l'impianto è in grado di soddisfare il fabbisugno annuo di circa 3.000 famiglie. Sono stati installati 32.000 moduli fotovoltaggi, sono state installate strutture per un valore di quasi 1.500 tonnellate, sono stati tirati i cavi per circa 230 chilometri. Nel cantiere hanno operato, nei momenti di punta, più di 80 maestranze con diverse professionalità. Proprio la presenza di un numero di maestranze così rilevanti, associato alla presenza di rilevazioni particolarmente complesse, in situazioni climatologiche difficili, l'attenzione che è stata posta sulla sicurezza ha fatto sì che durante tutti i nuovi mesi di apertura del cantiere non si sono registrati incidenti significativi. I pannelli sono stati montati su strutture metalliche ancorate al suolo mediante vitoni. Questa scelta progettuale è stata presa in modo che al termine della vita utile dell'impianto esso possa essere smantellato lasciando il campo ai suoi scopi originari che erano essenzialmente agricoli, quindi senza alcun tipo di residuo industriale rilasciato. La qualità dell'impianto, l'efficienza nella realizzazione e gli ottimi risultati finali sono dovuti alla efficace progettazione di reenergetica, all'assiduo sostegno organizzativo di CWA, alla capacità realizzativa tecnica di assaldo trasmissione e distribuzione, alla collaborazione di numerosi professionisti del settore e dei partner del progetto, come AppSolar, azienda leader per la produzione di pannelli fotovoltaici. AppSolar fornisce pannelli solari di alto livello con particolare attenzione rivolta al controllo qualità e servizi alla clientela. I nostri pannelli dispongono dei migliori materiali reperibili sul mercato, Sengoben e Pilkington per il vetro, Tyco e Uber Sooner per le junction box, mentre per i multi-contacts dei connettori facciamo riferimento a Isovolta e Cremple. Come già detto, siamo specialisti nel controllo qualità. AppSolar dispone di direttori del controllo qualità in modo permanente su ogni piattaforma di lavorazione. Noi forniamo inoltre documentazione relativa alla qualità di ogni nostro prodotto. L'anno scorso AppSolar ha prodotto 95 MW di energia. Quest'anno prevediamo di realizzare 250 MW, mentre per l'anno prossimo contiamo di raggiungere i 400-450 MW. 31.780 moduli fotovoltaici in silicio policristallino, ciascuno con potenza massima pari a 230 W, fissati su strutture in acciaio inox e alluminio anodizzato, concepite specificamente per grandi impianti realizzati a terra, articolate in file parallele rivolte a sud. Un impianto come quello di RAL di Alessandria viene costruito per fasi successive. Si sistemano le strutture portanti abitanti, circa 14.500 bitoni, posti con precisione grazie ad una strumentazione laser che consente il fissaggio delle strutture alla stessa altezza e distanza tra loro. Successivamente vengono montate le strutture di supporto costituite da elementi in acciaio. Solo ora si possono apporre sulle apposite strutture i pannelli fotovoltaici, operazione che richiede precisione e cura. Infine si realizzano i cablaggi che consentono all'energia di giungere alle cabine, dove viene dapprima convertita da regime di corrente continua a corrente alternata e in seguito elevata in media tensione, al fine di essere immessa nella rete di Enel Distribuzione. La conversione avviene grazie a 21 inverter, ciascuno dotato di tecnologia MPPT, che mantiene continuamente il campo fotovoltaico nelle migliori condizioni operative. Le sette sezioni in cui si articola l'impianto sono riconducibili a quattro cabine di conversione e trasformazione. Ogni sezione è composta da 4540 moduli fotovoltaici, tre inverter e un trasformatore. L'energia prodotta viene ceduta al GSE, gestore dei servizi energetici, che provvede a collocarla sul mercato nonché ad attribuire a RAL un'incentivazione, il cosiddetto conto energia, finalizzato a promuovere l'utilizzo della fonte solare per la produzione di energia elettrica. Efficienza, sicurezza, rispetto per l'ambiente e produttività sono i punti di forza con i quali RAL guarda al futuro del fotovoltaico. RAL guarda al futuro del fotovoltaico.